Appena inaugurato è già fermo. Il tramotto, riattivato domenica dopo più di un anno di lavori, in sole 24 ore, è già fermo a causa di alcuni problemi di tensione elettrica. In pratica, spiegano da ATAC, si sono riscontrate delle insufficienze nella sottostazione elettrica. Non ci sarebbe abbastanza corrente per muovere l'intera linea, che quindi è stata limitata per il momento e sostituita con navette bus. I tecnici ATAC, continuano dall'azienda, stanno lavorando da stanotte per ripristinare nel minor tempo possibile la normale erogazione della corrente e riattivare la linea sull'intera tratta. Se la perdita di isolamento dei cavi e da porre in relazione all'allagamento in zona degli scorsi giorni, sono in corso d'accertamento le motivazioni dell'apertura delle protezioni elettriche sui gruppi di trasformazione. Insomma, ATAC lascia intendere che forse alla base del disservizio possono esserci conseguenze causate dall'allagamento sulla Gianicolense di fine settembre quando la rottura ad una tubatura trasformò la strada in un fiume.